Al di là dei 139 contagiati in più di ieri che portano a 7.666 casi positivi, in Toscana sono due i dati anche oggi assolutamente positivi rispetto al diffondersi dell'epidemia, il calo dei ricoveri e l'aumento delle guarigioni. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 1.193,34 nemmeno rispetto a ieri, di cui 216 in terapia intensiva, meno 9 rispetto a ieri. Questo rende sempre più forte la capacità di ricoverare in terapia intensiva coloro che tra i nostri cittadini potrebbero averne bisogno. Il dato dei ricoveri non era così basso dal 25 marzo, quello della terapia intensiva dal 23 marzo scorso. Salgono ancora le guarigioni che raggiungono quota 693,56 in più rispetto a ieri. 361 più 12 sono soggetti clinicamente guariti, divenuti cioè asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, mentre 332 più 44, quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Gli isolamenti domiciliari sono saliti oggi a 5.224 persone, più 99 rispetto a ieri. Ricordiamo che queste sono le persone con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o che risultano prive di sintomi. Ben 17.332 sono le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Infine, il dato dei decessi che sono due in meno di ieri, 18 in tutto, 8 uomini e 10 donne, si evidenzia un'età media di quasi 87 anni.